E la cronaca a Napoli ancora a caccia alle ragazze che a bordo degli scooter hanno avvicinato due sorelle che passeggiavano lanciandole dell'acido sul loro volto. Preoccupa l'escalation di violenza e di aggressione in città. Francesca Chidini. Dopo lo sfregio con l'acido ai danni di due giovanissime sorelle, riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. La sequenza inquietante di aggressioni delle ultime settimane preoccupa, sconcerta e impone misure severe da adottare. La polizia indaga su quanto accaduto in corso a Medeo di Savoia, ascolta i familiari delle due sorelle, cerca le ragazze che a bordo di scooter hanno lanciato liquido corrosivo, ustionando al volto e alle braccia le sorelle del rione Sanità. Deturpazione permanente, il reato contestato che prevede pene fino a 14 anni di reclusione. Le ragazze sono state visitate e medicate al Cardarelli. Tra qualche settimana torneranno in ospedale per i controlli. Purtroppo questa è un'epoca che fa paura. Fa paura per noi, fa paura per loro e per questa generazione che crescerà e che deve crescere. Per contrastare la violenza è necessario prevenire, trasferire ai giovani modelli culturali e valoriali che siano alternativi ai modelli della violenza e della criminalità. E quindi probabilmente più che utilizzare degli eserciti militari, noi dobbiamo usare degli eserciti culturali, di operatori culturali.